Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Capricorno, tendenze energetiche generali per la prima metà di agosto 2023 e... uh, abbiamo il mondo! Cari amici del Capricorno, periodo di conclusioni, raggiungimenti di obiettivi, periodo di fine ciclo, perché normalmente quando c'è il mondo si parla della fine di un ciclo, è una carta che vi parla di cambi e normalmente sono cambi veloci, ma sono sempre cambi per il nostro più alto bene. Potrebbe anche parlare di viaggi o trasferimenti. Adesso andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente segno lunare o venere. Nella descrizione del video poi trovate una guida che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero interessarvi. Allora partiamo con un dieci di pentacoli al contrario, un due di bastoni, un re di spade, asso di denari, abbiamo l'appeso, due di coppe e otto di spade. Ragazzi qui abbiamo un dieci, un asso e un mondo. Devo dire che si parte da un dieci di pentacoli al contrario, può far riferimento a una situazione di un gruppo, può essere un gruppo lavorativo o un gruppo familiare. È a testa in giù, quindi o c'è qualche cosa che insomma bisogna mettere a posto all'interno di questo gruppo, c'è qualche... anche questioni economiche potrebbero essere, vi dirò. Abbiamo anche un due di bastoni, quindi qui è come se ci fosse da fare una scelta. Due di bastoni è sempre una carta che indica la vostra volontà di andare verso un domani, verso questo nuovo inizio, verso questo cambio, ma dall'altro lato c'è qualche cosa che vi tiene fermi di dove siete. Il re di spade può rappresentare una persona o un'energia, ma è come se avessi bisogno di mettere nero su bianco certe cose per evitare di scornarvi con qualcuno. Qua ci sta proprio bene questa... questa parola. Abbiamo poi anche l'asso di pentacoli e devo dire che è un po' come se ci fosse questo inizio che fa fatica. In effetti c'è anche poi l'appeso, è come se qualcosa fosse un po' bloccato in questo movimento. Però andiamo... queste le andiamo a vedere subito direttamente con i mini tarocchi, adesso ripartiamo dal 10 di pentacoli. Io intanto vi avviso che la lettura è in offerta, in promozione fino al 31 di luglio. Per sapere qual è la lettura in promozione vi consiglio di ascoltare l'oroscopo sull'amore e gli affetti del secondo semestre 2023. Partiamo con il 10 di pentacoli. Cavaliere di bastoni, cavaliere di coppe, asso di spade, matto, 6 di pentacoli e 4 di bastoni. Ragazzi qui si parla di movimenti perché avete ben due cavalieri proposte movimenti. E' come se ci fosse un prima e un dopo. Prima un movimento, poi una comunicazione per un nuovo inizio. Dopodiché equilibrio, abbondanza, stabilità, contratti. Il 4 di bastoni parla anche di contratti. Anche la 6 di pentacoli molte volte. Il 4 di bastoni fa più riferimento a contratti a livello di case, di proprietà, di immobili. Mentre il 6 di pentacoli fa più riferimento ai contratti di tipo commerciale, alle compravendite di beni e servizi. E' come se all'inizio ci potrebbero essere delle collaborazioni che avendo il 10 di pentacoli al contrario. Non sono regolamentate, non hanno un contratto diciamo ufficiale, però è come se ci fosse un nuovo inizio per. Dipende se a voi la lettura poi risuonerà come crescita personale piuttosto che lavora, piuttosto che coppie, piuttosto che famiglia. Insomma, andiamo a vedere due bastoni. Uh! 7 di spade e luna. Ragazzi, fate attenzione. Prima settimana di agosto. Qualche cosa potrebbe venire a galla. Potrebbero essere le vostre proiezioni. Paure. O proprio vi dico verità, perché abbiamo due carte che parlano di qualche cosa che è nascosto. Quindi o vi rendete conto di qualche cosa. Può essere per quello che siate poi ad un certo punto, perché qui un inizio già lo vedevo, però qui un certo punto c'è un attimo di indecisione. Paure. Andiamo a vedere le di spade. Re di coppe. Asso di bastoni. Come... Allora, se vi vibra come una stesa, diciamo, pseudoromantica, potrebbe esserci la voglia di... Guardate, se fosse così, scusate, ma mi è ricaduto un attimo l'occhio qua. Ho come l'idea che quel dieci di pentacoli al contrario sia come una falsa partenza. Come se ci siano state delle questioni che sì, siano già partite, però altre... È un po' come se vi dicessero sì, nel futuro vedrai che. Però poi in realtà si vengono a scoprire delle cose, per cui a un certo punto dite no, ok, io qua devo fare qualche cosa. E questo fa qualche cosa, come la sensazione che voi vogliate cose diverse rispetto all'altra persona. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. Sei di coppe. Qui ragazzi, ho come l'idea che dobbiate pulirvi da questa luna, da queste paure, da queste proiezioni. Da queste bugie per qualcuno, perché non vi nego che il sette di spade parla anche di bugie molte volte. C'è qualcosa qui che vi scarica, non vi prendete il tempo di ricaricare le pile. Per molti potrebbe essere un sogno, per molti potrebbe essere quella relazione da sogno. Andiamo a vedere l'appeso. Amanti al contrario, due di pentacoli al contrario, imperatrice al contrario. Sì, diciamo che nella seconda settimana di agosto, ragazzi, potreste un attimo farvi qualche domanda? Più che altro è un po' come... ce la farò a far tutto. Però ho come questa sensazione che manchi... Manchi una componente di amore. Anche se fossero contratti lavorativi, è come se faceste quello che dovete fare, quello che state facendo, solo perché lo dovete fare, perché razionalmente è la cosa più logica in questo momento. Ma è come se non foste convinti, non c'è amore. Non so, quando c'è la carta dell'appeso vi dice sempre che potete guardare le cose da un altro punto di vista. E come valutate anche il lato B della medaglia. Devo dire che però il due di pentacoli, quando è al contrario, è una carta positiva, nel senso che comunque parla di... Di una sorta di pace, in realtà. Però la vedo un po' collegata alla carta dell'appeso, perché comunque è il prendersi un momento, il prendersi un periodo di riflessione, secondo me. Andiamo a vedere il due di coppe. Regina di spade, fante di pentacoli. Allora ragazzi, qui le cose sono due. Potrebbe essere una relazione tra una persona molto più grande di voi, magari anche già sposata. Se fosse un contratto lavorativo, magari è un'azienda o una ditta che ha già dei contratti pregressi al vostro. C'è molto da lavorare, sia che sia una relazione lavorativa o romantico di amicizio, quello che per voi è. Ragazzi, sento che avete bisogno di... Come posso dire? Amoripidirvi. Lo vedevo anche un po' qui. Perché le energie del re e della regina di spade sono sempre... Ah, tra l'altro, la regina di spade. E quindi per qualcuno, ragazzi... E ci sono anche gli amati. Per qualcuno, ragazzi, potrebbe essere una coppia per destino. Anche se fosse lavorativo, sapete che io come la penso... Va bene, andiamo a vedere l'otto di spade. Quattro di pentacoli. Guardate, io vedendo queste... E' il fante di bastoni. Io vedendo queste due carte mi dico che è più la vostra idea. Ma perché avete delle proiezioni, avete delle dinamiche un po' distorte. E' come se non aveste tutte le informazioni per poter vederci chiaro. Di conseguenza, vi sembrerà di essere un po' bloccati nella seconda settimana di... Cioè, non bloccati, però è come se vi sembrasse di non poter far diversamente. E di nuovo, ritorno. Quello che manca è l'amore, manca l'entusiasmo, manca la passione. E' un po' come, ripeto, mi sento un po' abbandonati. Cioè, non abbandonati, però... Ok, devo farlo. E' un passaggio obbligato, si fa appunto. Entusiasmo zero. Vi dico, in realtà con il fante di bastoni c'è proprio il bisogno di ritrovare questa grinta. Magari è anche il caldo in questo periodo, eh ragazzi? Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Wow! Arrivare al traguardo, ragazzi, ci siete, ci siete. Probabilmente ci sarà da aspettare magari ancora una settimana, però arriverete a questo traguardo. E anche il mondo, come vi ho già detto all'inizio, è una carta di raggiungimento di risultati, compimento e fine di cicli, apertura di nuovi cicli. E che secondo me siete ancora in fase di chiusura e dovete ancora tecnicamente aprire. Anche se qui c'è l'impulso con questo matto, cioè come se, ok, la direzione ormai l'avete data. Però vi dico, questa fase, questa prima settimana di agosto vi farà venire dei dubbi. Comunque quando si fanno delle scelte o dei passaggi importanti o dei contratti importanti, c'è sempre un po' il dubbio, farò bene, farò male. Comunque, le carte vi dicono che arriverete al traguardo. Guardate, 4 e 7 fanno 11, ok, quindi io mi sento di dire che è un po' una sincronicità, ok. So che qua non avete, avete un 1, un 1, 4 di bastoni, che anche il 4 di bastoni, se ci fate caso, viene disegnato con 4 stecchini e rappresenta proprio l'11 e l'11. Va bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata d'aiuto. Certe volte voglio parlare troppo in fretta. Fatemelo sapere con un like, un commento, una condivisione, potete anche lasciare una donazione o abbonarvi al canale. Le fasce di abbonamento sono due, la prima è la fascia più bassa, diciamo, è solo un supporto al canale, con la fascia di prezzo più alta avete accesso ai video di crescita personale e spirituale. Per quello che riguarda invece il percorso individuale che sto proponendo, è un percorso cucito sulla persona, nel senso che la persona viene e mi porta un lato in cui la sua vita è carente e si vanno a trovare ed elaborare, a trasformare le credenze limitanti in quel settore. Però tutto quello che faccio in questo tipo di percorso è una parte di quello che sto andando via via spiegando nella sezione degli abbonamenti, ok? Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!